I bene informati dicono che nelle stanze del Ministero dell'Istruzione c'è molta preoccupazione. Le settimane e i giorni passano e la vicenda del rinnovo contrattuale per più di un milione di dipendenti, fra docenti, personale ATA, dirigenti scolastici, appare sempre più complicata. I soldi non ci sono o comunque sono pochi. Per mesi si è continuato a dire che con il PNRR e con la nuova legge di bilancio si sarebbe provveduto ad incrementare le risorse, ma adesso la verità sta venendo a galla poco per volta. Intanto è ormai chiaro che i fondi del PNRR non potranno in alcun modo essere usati per i contratti pubblici. Lo impediscono le regole europee che prevedono che tali risorse possono essere impiegate per investimenti straordinari, ma non certamente per aumentare le retribuzioni che hanno invece bisogno di stanziamenti strutturali che si devono ripetere nel corso degli anni. Ma a proposito delle modalità con cui si potranno impiegare i soldi del PNRR, sentiamo che cosa ha detto il segretario generale di FLC CGL Francesco Sinopoli, in un faccia a faccia con il ministro Patrizio Bianchi che si è svolto il 20 ottobre. Adesso è il momento, visto che veniamo da due anni di pandemia che hanno illuminato i ritardi del sistema e ci hanno fatto conoscere meglio le difficoltà in cui ci trovavamo per fare delle scelte diverse e abbiamo una grande opportunità che è il PNRR. Il PNRR non è neutro, anche quello non è neutro, perché non l'abbiamo scritto noi, sicuramente non l'abbiamo scritto noi, ma devo dire in generale è stato scritto solo in parte nel nostro paese, ci sono dei condizionamenti e poi c'è una cultura che è un po' a cavallo tra Roma e Bruxelles, mettiamola così. Questa cultura a cavallo tra Roma e Bruxelles pensa di avere un'idea di scuola, ma questa idea di scuola non è stata confrontata con nessuno, con nessuno che lavora nella scuola e non è oggetto di dibattito pubblico in Italia. Se noi adesso pensiamo, questo è un warning, di intervenire sulla scuola facendo riforme, parola nobile, ma che si è tradotta negli ultimi vent'anni nel suo contrario. Senza aprire un dibattito pubblico nella scuola sbaglia. Ma ci sono anche altre complicazioni. Le risorse attualmente disponibili per i contratti potrebbero consentire un aumento medio degli stipendi della scuola nella misura di circa 85 euro. Ma per l'appunto si tratta di un aumento medio. Questo significa che a conti fatti si potrebbe variare da 40 euro per gli stipendi più bassi, quelle dei collaboratori scolastici per intenderci, a 110-120 euro, professori di secondaria di secondo grado collocati nella fascia stipendiale più alta. Già all'epoca del contratto precedente, siglato nei primi mesi del 2018, si era posto il medesimo problema e la soluzione adottata era stata quella di riconoscere agli stipendi più bassi il cosiddetto elemento perequativo che era stato finanziato facendo decorrere gli incrementi contrattuali non dal primo gennaio 2018 ma dal primo marzo. Questa volta due mesi di ritardo potrebbero non essere sufficienti e c'è il rischio di dover far partire gli aumenti da aprile o anche dopo. Nessuna possibilità poiché si possa in qualche misura ridurre il divario con gli stipendi altri dipendenti pubblici perché per ottenere questo risultato si dovrebbe riconoscere al comparto scuola uno stanziamento superiore a quello previsto per gli altri settori e una soluzione del genere non sarebbe accettata neppure dalle confederazioni sindacali. Molti confidano su ulteriori distanziamenti con la legge di bilancio che dovrà essere discussa e approvata dal Parlamento nelle prossime settimane ma anche questa strada appare impossibile da percorrere per il semplice motivo che i fondi inseriti nel bilancio 2022 dovranno servire per finanziare il contratto futuro quello cioè del triennio 2022-2024. D'altronde per il contratto dei dipendenti degli enti locali e dei ministeri Aran e sindacati stanno già lavorando facendo riferimento alle risorse stanziate con le leggi di bilancio 2019, 2020 e 2021. Sarebbe insomma ben strano che per la scuola invece si usassero anche i soldi del 2022. La situazione è questa ma come sempre accade in politica le sorprese non si possono escludere del tutto. Vedremo se ci saranno novità nelle prossime settimane. Ovviamente noi su questo continueremo a tenervi informati quindi seguiteci su questo canale ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it mandateci i vostri commenti, le vostre lettere e ovviamente come al solito noi ne daremo conto come sempre. Grazie. 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 Grazie.